Niki Marcelli. Buongiorno Niki. Buongiorno, buongiorno come va? Che piacere avervi qui. Allora, cominciamo con il principio, la prima cosa è il titolo e vediamo anche questa copertina molto interessante. La Contessa Rossa. Poi si parla di una Morgan tutta rossa e di tante cose rosse. Come mai tutto rossa? Dunque, questo libro, La Contessa Rossa, il personaggio della Contessa Rossa, nasce da un chiodo in realtà. Il chiodo che non è quel oggetto metallico in cui si appendono i quadri, ma è un giubbotto da motociclista. Di colore rosso, che ho visto una volta in una vetrina di un pellettiere artigiano di Viterbo, che aveva la vetrina proprio accanto al ristorante dove vado di solito. Bellissimo, questo chiodo bellissimo, infatti è citato anche nel libro il pellettiere. E ho pensato, guardandolo, come starebbe bene addosso alla mia amica Sara, che è la ragazza che mi ha ispirato il personaggio. E quindi ho cominciato un po' a giocare intellettualmente con Sara a sua insaputa, tanto a sua insaputa va di moda oggi. E come si faceva un po' con le bamboline di carta ad una volta? Allora le metto il chiodo, poi che cosa le metto? Le metto i jeans, le metto queste scarpe, no? Queste scarpe forse sono un po' troppo, le metto un pochino più carine. E una t-shirt, ma forse quella t-shirt mi diventa troppo rocchettara, allora le metto una camicetta in un certo modo. Poi era venuto fuori questo personaggetto carino, dice cosa ci faccio? Allora ho detto, vabbè, potrebbe essere una contessa. La contessa rossa la mettiamo su una Morgan rossa. Premetto tutto questo rosso è perché il cuore preferito di Sara è il rosso. E la Morgan è una delle mie auto preferite, anche se la preferisco British Racing Green personalmente. Oddio, se me la regalassero rossa me la terrei, e poi adesso porterebbe anche buono. E l'ho messa con ovviamente la cuffia di pelle rossa, i mezzi guanti da guida rossi, e una sciarpa bianca, non troppo lunga per non farle fare la fine di Sadora Duncan, al collo a scorrazzarmi in giro per il cervello, attufandomelo di gas di scarico per un annetto circa, fino a che ho deciso finalmente cosa fare di questo personaggio che era lì che rombava da anche un po' fastidio alla fine. E ho pensato di costruirci attorno a un romanzo. Quindi sei partito con la sartoria, poi hai fatto il casting e poi le location per mettere insieme tutta quanta la storia. Ma hai fatto anche una ricerca storica. Ovviamente, per non scrivere delle boiate, ho fatto una ricerca storica perché c'era la necessità di ambientare in un determinato periodo parte del libro. Da questo determinato periodo, arrivando ai giorni nostri, arrivavano dei documenti che venivano trovati in maniera abbastanza fortuita e molto mal conservati e quindi ho avuto bisogno di sapere, oltre alla ricerca storica, anche come restaurarli. In questo mi è stato di grande aiuto l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che come sappiamo è uno dei maggiori, se non il maggiore, centro di restauro italiano, che si sono gentilmente messi a mia disposizione con un restauratore del reparto cartaceo e membranaceo che mi ha fatto da consulente. Io gli mandavo di volta in volta le pagine che scrivevo, lui mi spiegava cosa andava bene e cosa non andava bene, come recuperare un documento, nella fattispecie un incartamento da tiro scritto risalente alla Seconda Guerra Mondiale e ritrovato in un crepaccio di montagna una borsa di cuoio. Questo è l'incipit, l'inizio del romanzo, però non sveliamo troppe cose. No, 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 lo sveliamo, però questo è il minimo sindacale, questo lo svelo sempre. E allora, grazie a loro, almeno per quanto riguarda conservazione e recupero di un documento di quella fatta in quelle condizioni, non ho scritto boiate, sul resto del libro non garantisco, ma... No, la credibilità c'è, insomma, voglio dire, la ricerca sia storica che scientifica mi sembra più che adeguata. Ma la cosa divertente è proprio, almeno io leggendo solamente le prime pagine, ho percepito proprio il gusto, il godimento che tu hai provato nel costruire pezzo pezzo e tutto quanto, mettendo insieme non solo scenografia, costumi, ma anche sensazioni, impressioni e anche risentimenti. Beh, si diceva donne, motori, gioie e dolori. Qui ci sono le donne, perché poi le protagoniste sono due, c'è anche Anna Dettacare, tra l'altro anche lei ispirata a una mia carissima amica. E ci sono i motori, perché c'è la Morgan, ma fuori di battuta, i libri sono gioia e dolore peggio, e mi sono anche divertito, è vero. Però ho sofferto come un cane in certi momenti, perché non mi arrivava l'ispirazione, non riuscivo a far combaciare delle cose, non trovavo la giusta via. È stato quasi un parto, infatti lo considero un figlio oramai, questo libro. Vabbè, anche questo, diciamo, fa parte, questa sofferenza fa parte poi di questo momento creativo. Io sono curioso adesso di sapere da te come è nata in te, quando Nichi era bambino, il desiderio e la passione proprio per la letteratura. Vabbè, a parte il fatto che da questo punto di vista sono abbastanza figlio d'arte, perché mio padre era giornalista e scrittore a sua volta. Io ho vissuto da sempre in mezzo ai libri, prima rompendoli, quando ero proprio piccolo piccolo, anche alcuni che mio padre credo non me l'abbia perdonata per tutta la vita, alcuni incunaboli che meglio lasciar perdere. E poi, apprezzandoli, cominciando a leggere, diventando innanzitutto un voracissimo lettore. E poi, devo dire che fin da piccolissimo, perché mio padre mi regalò la prima macchina a scrivere che conservo ancora quando avevo otto anni, fu il mio regalo di Natale, ho sempre tentato di raccontare delle storie. Poi, chiaramente, crescendo ci sono riuscito forse un po' meglio rispetto all'epoca. Credo, spero, me lo auguro. Voglio dire, si spera, crescendo bisognerebbe migliorare. Poi da una certa età in poi si può peggiorare poco, però, insomma, all'inizio. Senti, un altro aspetto. Allora, sono quasi 300 pagine, quindi è bello 290 e qualcosa. Perché tu hai il manoscritto. Sì, il manoscritto, forse questo è diverso. Questo libro che adesso ti ho regalato, vedi, c'è anche la dedica. Ne conta, perché è un pochino più piccolo come dimensione di pagina, non è formato a 4. 362. 362, no, poi siamo sui ringraziamenti. Sono 354 di lettura pura, diciamo. Appunto, voglio dire, quindi non è proprio una cosa velocissima, ci vuole un po' di tempo. Ma nella prefazione si dice che è un libro che va letto tutto d'un fiato. Devo dire, non dovrei essere io a dire queste cose, perché insomma ogni scarafone bebe la mamma soia, si sa, però le persone che l'hanno letto, lo hanno letto, sono riuscite a leggere tutto d'un fiato. Se non tutto d'un fiato, in un paio di giorni l'hanno finito, ecco, nonostante la mole. E poi ci sono i consigli per gli acquisti, no? È buono per le vacanze o anche come lettura quotidiana? Per le vacanze è ottimo, perché è anche un libro di viaggi, questo è un libro d'avventura. È una grande caccia al tesoro che si svolge per mezza Italia, dalle nevi delle Dolomiti, come dice qui, alle spiagge di Cesenatico. E proprio a Cesenatico è ambientata tutta la seconda parte del libro, nei sotterrani di un'antica colonia diventata adesso un grand hotel di lusso, che esiste veramente, è il grand hotel da Vinci di Cesenatico e ha veramente sotto le sue fondamenta tutti i segreti o buona parte dei segreti che racconto qua dentro. Ma sono tutti quanti i posti che tu hai visitato e che conosci, quelli di cui parli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tranne magari l'Istituto di Medicina Legale di Bolzano. No, però conosco l'Istituto di Medicina Legale di Roma, mi ci sono anche perso una volta perché ero andato a chiedere una consulenza al professor Cipolloni riguardo alle autopsie e mi ha portato a visitare tutte le sale rimesse a posto che stavano preparando per il giubileo. Allora, faccio una premessa per chi è di Roma, l'Istituto di Medicina Legale è praticamente all'Umberto I, alla città universitaria. Io sono entrato in queste sale settorie e ho visto una clinica svizzera all'avanguardia, mentre invece, se vogliamo dirla proprio papale, papale, siamo sempre a Roma, ci sta. Poi, uno che parla più papale di Papa Francesco è difficile trovarlo ultimamente. Lì, nel reparto vivi, ti cascano i calcinacci in testa. Ma siccome stava per partire il giubileo, evidentemente non volevano fare brutta figura coi cadaveri di eventuali turisti. Io ho veramente una clinica svizzera meravigliosa, avrei voluto farmi ricoverare lì. Ecco, operatemi sul tavolo settorio per cortesia, che sono sicuro di non prendermi un accidente, piuttosto che nelle sale operatorie, quelle canoniche. Ci chiudono gli ospedali, chiudono le stanze negli ospedali, però almeno Medicina Legale non ce lo chiudono. Medicina Legale non c'è nulla di illegale, tutto perfetto, tutto a norma, anzi, di più, di più. Io poi l'ho visitata bene perché il professore mi ha detto, allora scenda di qui, vada di là, giri di qui, si trova fuori. Io ho girato di qui, sono girato di là, sono sceso giù e mi sono trovato invece alle celle frigorifere. E poi sono riuscito fortunosamente anche a trovare l'uscita. Come in ogni film che si rispetti, oltre a costume, scenografia, recitazione, attori, casting e quant'altro, c'è anche la colonna sonora, la musica. Che musica c'è nel tuo romanzo? Allora, a parte la volta che le ragazze vanno a ballare alla capannina, per il resto devo dire, non mi sembra di ricordare che ho la memoria un po' labile, non mi sembra di ricordare di aver messo della musica specifica all'interno del romanzo. Però il romanzo è stato comunque scritto seguendo una colonna sonora, perché io l'ho scritto sulle note di Roberto Cacciapaglia, che è un artista meraviglioso, che accompagna praticamente quasi ogni passo della mia vita e ha accompagnato ovviamente i momenti di scrittura. Quindi c'è anche la colonna sonora. Come e dove acquistare questo libro? So che la domanda è banalissima, però tanto vale, ci troviamo, facciamo. Non è banale per niente perché ancora non lo pubblica Longanesi, non lo pubblica Mondadori, non lo pubblica Teche, che è un coraggioso, ottimo editore, ma è un editore indipendente. E come tutti gli editori indipendenti ha i problemi di distribuzione degli editori indipendenti. Per cui si può ordinare, difficilmente lo troverete sugli scaffali, tranne le librerie dove siamo stati a fare le presentazioni che ne hanno trattenuta qualche copia. Però si può ordinare in tutte le librerie, pregando il commesso svogliato, di non guardare soltanto sul catalogo ufficiale suo, ma di cercarlo anche un attimo su internet, sul catalogo magari del distributore del libro. Si può acquistare su Amazon. Ma infatti io dicevo che è banale la domanda proprio perché su Amazon sicuramente si trova, ma anche magari forse scrivendo all'editore. Ovviamente, anche scrivendo la casa editrice, si può essere quindi editrice. In internet trovate tutti i riferimenti, sia Amazon, sia il distributore ufficiale del libro. E poi potete mettere alla frusta il commesso in libreria, che se una persona carina, gentile e simpatica ve lo trova e in pochi giorni ve lo ordina e ve lo fa avere. Altrimenti dice, no, è fuori catalogo, non si trova, no. Questi sono quelli che hanno voglia di fare una mazza. Senti, ma possiamo anche trovare tutte le notizie e le informazioni su di te, su Facebook. E anche sul mio sito. Io ho una pagina su Facebook, a parte il profilo personale che vabbè, ma c'è la pagina Niki Marcelli, c'è la pagina del libro La Contessa Rossa, ci sono anche le pagine, piano piano sto mettendo anche degli altri libri che ho fatto, e c'è il mio sito che è www.nikimarcelli.com. Quindi, chiunque fosse casomai interessato a sapere qualcosa di più su di me, scritto ovviamente da un webmaster di parte, può trovarla, se no deve aspettare che diventi un pochino più famoso, mi troverà anche sulle riviste scandalistiche. Vabbè, comunque, diciamo, tutto quello che è biografia, che sarebbe inutile metterlo in un'intervista, lo potete trovare in questi siti. E comunque è bello andare a fare una ricerca e a impicciarsi un po' degli affari di Niki Marcelli. Bene. È un bel contrapasso, perché nascendo io come giornalista di inchiesta, ero io quello che andavo a impicciarsi degli affari altrui. Infatti. Ma questo libro che mi sembra sia pubblicato da poco, ce n'è già in pentola qualcosa che bolle? Sì, sto scrivendo la seconda avventura della Contessa Rossa, di Sara e di Care, le protagoniste del libro. E avrei in mente e in animo e in progetto vago una quadrilogia, però intanto vediamo se riesco a finire il secondo, che si sta rivelando più impegnativo del primo. Ma a parte la sofferenza e le difficoltà nel mettere insieme un romanzo, quando il romanzo è finito e dici basta, adesso lo do alle stampe, com'è la soddisfazione? La soddisfazione è grande quando lo vedi finalmente stampato, quando lo vedi così. Quando hai stampato il manoscritto, te lo sei rivisto 200 volte, e poi l'editor trova degli altri orrori di stampa e sviste che ti erano sfuggite, perché alla terza volta che lo leggi chiaramente non lo vedi più, anche se cerchi in tutti i modi di guardare riga per riga. Ma finalmente poi lo consegni all'editore, la domanda, il grosso punto interrogativo, grosso veramente come una casa, è sempre quello. Oddio, avrò scritto una boiata? Vabbè, però a quel punto ci sono gli amici che ti possono confortare o consigliare. Sì, però, ecco, già il fatto che l'editore dia il si stampi vuol dire che non è tanto male. Poi ho visto che sta avendo un discreto successo, nonostante le difficoltà di distribuzione e tutte le difficoltà appunto di essere un piccolo editore, te che si sta dando un grande affare, sta uscendo, devo dire, stanno uscendo un sacco di recensioni, non mi è ancora uscita una recensione negativa, sono preoccupato. Ma a parte le recensioni alle quali io, diciamo, do sempre un beneficio ad inventario, ma il pubblico, proprio quelli che leggono il libro e che poi ti vengono a dire, ah, sai, come reagisce? Io sono imbarazzato a dirlo, ma il pubblico è entusiasta. Quelli che comprano il libro sono tutti felici e contenti, sono tutti a chiedermi quando è il prossimo, quando è il prossimo. Ci sto lavorando. Abbiate pazienza, arriverà. Bene, allora, io ti ringrazio della partecipazione ai nostri programmi. Grazie a voi. L'imbocca al lupo è indispensabile, ma non si può rispondere ai crepi. E allora viva il lupo. Perfetto. Di questi tempi crepi il lupo, mi si scatena contro la chiunque. Allora, grazie e ci vediamo all'uscita del prossimo. Grazie a voi.